La Roma sembrava dovesse essere la vittima sacrificale stasera di fronte alla prima della classe, la squadra che vincerà sicuramente il campionato e con assoluto merito perché è la squadra migliore del campionato, è quella che ha più qualità, è quella che ha più scelte e quella che gioca sicuramente bene. La Roma ha perso però comunque esce con la consapevolezza secondo me dal Maradona di aver trovato comunque anche un suo assetto, una squadra che ha messo anche un po' in difficoltà il Napoli. La differenza l'hanno fatta indubbiamente anche i singoli, le prestazioni dei singoli, alcuni errori, purtroppo un paio di errori in fase difensiva anche di posizionamento hanno portato ai gol del Napoli e la grande qualità, Cosimena da una parte e lo stesso Simeone che hanno segnato i due gol della Roma e la Roma ha segnato con il Sharawi, insomma sembra avere poi sempre un conto in sospeso con il Napoli, segna sempre, peccato perché secondo me la Roma meritava comunque il pareggio in una serata in cui ha, ripeto, ha messo anche in difficoltà il Napoli in alcune occasioni e vedere l'esultanza anche dei giocatori del Napoli, di tutto l'ambiente napoletano, di tutto lo stadio che quasi un po' temeva alla fine la reazione della Roma, dà la dimostrazione del fatto che la Roma è in crescita, che non è la Roma della gara di andata, quella che poi subì il gol di Cosimena e poi non ebbe più la forza di poter reagire, questa squadra ha fatto sicuramente qualcosa, già iniziando con un pressing molto più alto fin dall'inizio e poi le occasioni hanno dato la possibilità al Napoli di andare in vantaggio, la Roma c'era stata un'opportunità, un colpo di testa retrato di Kim, stava per diventare un autogol clamoroso, sarebbe andata in vantaggio la Roma, può darsi che le cose sarebbero cambiate, però era riuscita anche a recuperare il risultato con il gol di El Sharawi, ripeto, secondo me la Roma comunque ha dato dimostrazione di assoluta crescita, la differenza poi non c'è niente da fare, la fanno sempre i giocatori, se da una parte Spalletti ha avuto l'opportunità di fare dei cambi e di mettere dentro Elmas, di mettere dentro Raspadori, di mettere dentro Simeone, dall'altra Mourinho ha messo dentro quelli che lui chiama i bambini, ha messo dentro Bove, Tahirovic, Volpato, e poi aggiungiamo che c'è anche Zaleschi, che è sicuramente uno dei bambini, anche se ormai è aggregato e ha disputato anche una partita più che buona, però questa è la differenza, questa è la grande differenza in questo momento tra anche le due formazioni, al di là della bellezza del gioco, di quello che si può fare, Napoli è sicuramente più forte, Napoli prima classifica, merita assolutamente tutto, la Roma è comunque in corsa perché cambia poco, cioè un pareggio certamente avrebbe portato la Roma a 38, ma comunque siamo lì, siamo lì, ecco l'importante è essere comunque in corsa, continuare su questa strada, continuare a cercare naturalmente di crescere in consapevolezza, crescere in forza interiore e la Roma sta dimostrando che può anche giocare senza Zaniolo e può fare chiaramente risultati anche senza Zaniolo, poi la questione Zaniolo vediamo se si risolverà entro 48 ore oppure no, ma ormai è qualcosa che non fa parte della Roma come società e come squadra, è un corpo totalmente strano, chiaramente se uscisse lui entrerebbe almeno un altro giocatore, vedremo che cosa accadrà nelle prossime 48 ore, adesso in settimana la Roma dovrà giocare in Coppa Italia contro la Cremonese e poi naturalmente si ritornerà con la prossima di campionato, ma è importante aver dato comunque una risposta di una squadra che rimane in salute ed è una squadra che può veramente dire la sua, è chiaro che se avesse anche una rosa diversa Volegno le cose andrebbero anche in maniera, non dico opposta rispetto a quella che sta adesso, ma insomma avrebbe certamente qualcosa in più rispetto a quello che sta facendo ora. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre sempre sempre, forza Roma, forza Roma, forza Roma.